Una vigor per Conti travolgente, batte allo Sporting Center il Blue Devils per 4-1 facendo un passo avanti importante verso l'obiettivo della finale Scudetto. Un Superciani autore di una tripletta e il gol di Pistillo spingono i Blaugrana verso la decisiva sfida al Calcio Sicilia. Pronti via e dopo tre giri di lancette, ecceerenza a provare il primo tentativo, conclusione larga che si perde sul fondo. Poco dopo azione ancora tutta in verticale da parte dei padroni di casa e Pistillo a tentare la conclusione dalla distanza. Palla che termina alta sopra la traversa. Gli ospiti si fanno vedere sugli sviluppi di un calcio piazzato, azione insistita e conclusione da parte della formazione partenopea. Parata senza problemi da Teramo. La vigor pressa e fa bene perché all'undicesimo dal lancio lungo Xani si infila alla perfezione tra le maglie avversarie. Pallonetto e 1-0, vigor per Conti in vantaggio. Il gol dall'infa ai padroni di casa, punizione battuta con il destro, interviene Pezzella, portiere ospite. Blue Devils che alla mezz'ora invece trova l'occasionissima per il possibile pari. In verticale conclusione, respinta da Teramo. Poi Ferrara, tu per tu, spara alto sopra la traversa. Superato lo spavento, la vigor per Conti chiude i giochi. Fa tutto Xani con Trovise che recupera la sfera. Il numero 7 di casa va via in dribbling tra le maglie avversarie e piazza il sinistro all'angolino. 2-0 e doppietta momentanea. Non basta perché al 39esimo lo stesso imbeccato da Alfano cala il tris prima dell'intervallo. Tripletta personale. Nella ripresa vigor per Conti, subito offensiva ed è ancora Alfano a confezionare il secondo asis di giornata, stavolta per Pistillo che al terzo porta il punteggio sul 4-0. Vigor che torna a farsi vedere al decimo con Colangeli che recupera palla, ma la conclusione del numero 17 è debole. Nel finale Pistillo ancora prova la conclusione dalla distanza dopo un'azione recuperata. Conclusione di sinistro murata dalla portiere ospite. Infine al 29esimo arriva il gol del Blue Devils con Cerbone dopo respinta corta dell'estremo difensore di casa. 4-1. Poi dopo il recupero non c'è più tempo. Grazie. 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 Grazie.